Il Tripmaster è un totalizzatore parziale che indica chilometri parziali percorsi dal veicolo. Differentemente da un totalizzatore parziale classico, il Tripmaster ha la possibilità di essere stoppato e decrementato. Essendo una funzionalità specifica per la navigazione, il Tripmaster è visualizzabile solo nell'Info Mode Off-Road. In questo caso nel dashboard verrà visualizzata la scritta Tripmaster, il chilometraggio parziale e una freccia. Se la freccia è rivolta verso l'alto, il chilometraggio si incrementa. Se in questo caso premiamo il tasto 1, il chilometraggio inizierà a lampeggiare e il Tripmaster sarà in pausa. Se premeremo nuovamente il tasto 1, torneremo a incrementare il chilometraggio. Se invece andremo a premere il tasto 2, andremo a invertire il senso della freccia e il chilometraggio andrà a decrementarsi. Il chilometraggio andrà a decrementarsi.